Doveri, entrando in centro ho abitato l'impiccio di Sardà. Doveri del Conducente nel uso della strada. 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 Grazie. 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 il centro con il centro l'inche il suo alcance da yanti e io la carlia di sentiero no no ok ok per che qui che 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 grazie a tutti 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 non bisogno limitare si non bisogno limitare observation la visione per controllare la situazione del vè trafico, quissi liè di fare 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 trafico avicare, положi, di fare. Quissi liè di fare trafico, quissi liè di fare trafico, quissi liè di fare trafico, quissi liè di fare trafico jiari. che ci sono la distanza di sicurezza distanza di sicurezza forza lich l'inghi distanza di sicurezza di sicurezza di sicurezza sicurezza che fata è che hai fatto di sicurezza che hai fatto la line con il per passare e tu guardi che hai che hai mantenuto 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 rinca e un po' di sicurezza di sicurezza Sì, che il nostro corso luce di emergenza luce di emergenza luce di emergenza diretti che quindi per riare unacursia libera a destra 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 side per una e e khali cursi per nannate per esempio qui è avati di sodio qui è avati di sodio sui idem qui vi ring 7 qui ci acc charla di quei che avvi aqui ci sono qui ci acc kombinato e per creare create per ne che li ho una cursia libera a destra 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 che è raiite destra e ancora cursia libera per ne che li ho appone sinistra non è possibile lefitte sider per ne falsi non fare trafico appone 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 manten appone sinistra non 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 quando si viaja in fila con altri vehiculi opportuno spostarsi al centro della carri jata toccata già buon line in due sri guardi in cui pizze chalera appare già attacca center me chalera per controller la situazione del traffico traffic situation con control lo che sulleva polvere che giù uccarri è sulleva oppure uccana polvere dhùl che che di gattava gara è giù che di gattava gara che di gattava gara con via ne a poco mesura dìa giata è sorpasare lo subito apposco avate e subito fuori attraverso che ci sono